Tashidelek a tutti voi e agli studenti che hanno già seguito il Basic Program in passato. A partire da febbraio inizieremo un nuovo soggetto del Basic Program dal titolo TENETS, Sistemi Filosofici, e sarà relativo alle quattro scuole filosofiche. Il testo delle quattro scuole filosofiche è molto importante perché ci espone i diversi modi di spiegare i fenomeni e descrive anche le diverse visioni dei fenomeni di ciascuna di queste quattro scuole. Capire le quattro scuole di pensiero sarà di grande beneficio e vi permetterà di comprendere anche la vostra mente nella loro visione. Ci sono quattro scuole di pensiero, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, Madhyamaka, all'interno delle quali ci sono ulteriori divisioni. Il testo spiega i diversi livelli della loro visione, visione sottile, grossolana, eccetera. È molto importante conoscere questi diversi modi di osservazione della realtà e comprendere il loro diverso modo di asserire. Conoscere questo testo, quindi, è molto importante perché vi sono esposte diverse visioni filosofiche del buddismo. L'argomento è adatto a tutti e non è necessario essere buddhisti o religiosi. Quindi mi raccomando di dedicarvi allo studio di questo soggetto. È possibile farlo sia come studenti residenziali che seguendolo online. Grazie. 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 Grazie.